Ti auguro una santa domenica, prego per te, specialmente per queste due intenzioni. La prima è questa, che la domenica, il giorno del Signore, diventi il Signore dei giorni. C'è un tempo così bello e grande e fruttuoso da irradiarsi su tutta la settimana, su tutti i giorni che verranno, anche con una forza retroattiva sul tempo che abbiamo già trascorso. Ecco, la domenica ha questa potenza misteriosa di farci partecipare in un modo nuovo alla potenza di Gesù risorto per noi. Ecco, imparare a vivere la domenica con più profondità come tempo di Dio e di Gesù risorto, in cui cerchiamo anche un po' di ristoro, sicuramente di riposo, ma soprattutto di esperienza più profonda del Signore. Ecco, poi questa domenica porta due doni particolari attraverso la liturgia eucaristica. Il primo è di immergerci nella umiltà di Gesù, capire l'umiltà di Dio e diventare umili. La seconda cosa che poggia su questo, ecco, quando noi siamo umili, l'amore di Dio può entrare in noi e possiamo amare gli altri col cuore di Dio, cioè in modo gratuito. Sentiremo nel Vangelo la parabola, quando fai un pranzo, una cena, un bell'incontro, non invitare quelli che ti possono ricambiare, ma invita ciechi, storpi, zoppi, e gente povera che non ti può ricambiare perché avrai la tua ricompensa da Dio, sarai beato e così anche ti apri in questo modo di amare di Dio. Ecco, ti auguro proprio di vivere bene questa giornata e per questo ti benedico. Il Signore sia con te e con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio della vita di questi tuoi figli, di questi mezzi potenti, per poter anche ascoltare la tua parola e rivolgere a te il nostro pensiero. Voglio, Signore, che hai tanto benedetto questi tuoi figli con la vita, che li illumini con la grazia della vita eterna. Per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti auguro una santa giornata. Ti auguro una santa giornata.